Un bilancio sicuramente molto significativo per quello che rappresenta, perché è la prima volta che viene stilato dall'Arcidiocesi di Milano, per i numeri che illustra, ma anche per il suo valore di esemplarità. È il primo bilancio di missione appunto dell'Arcidiocesi di Milano, presentato nella Sala delle Conferenze della Curia, alla presenza dell'Arcivesculo. Per l'anno 2021-2022 sono stati quasi 52 milioni di euro destinati alla cura pastorale e amministrativa e per il sostegno delle attività e progetti diocesani sul territorio. Uno sforzo di trasparenza, come ha detto Monsignor Bruno Marinoni, Moderator Curie e Vicario Episcopale per gli Affari Generali, al fine di raccontare il modo in cui la diocesi assolve alla propria missione. La diocesi è particolarmente grande, quindi non vi è un unico ente che gestisce le attività centrali, vi sono più realtà, però l'idea è che tutti quelli che lavorano insieme possano poco alla volta essere orientati, affinché tutti abbiano la stessa meta, abbiano lo stesso obiettivo. Dei 51 milioni 899 mila 868 euro, il 30% sono stati destinati all'attività di vigilanza canonica, consulenza amministrativa e servizi, il 19% è all'attività di indirizzo pastorale, attraverso percorsi di coordinamento e formazione, il 51% al sostegno di attività e progetti sul territorio, tramite la gestione diretta di opere e l'erogazione di contributi per finalità specifiche. Tutto questo suscita ammirazione, impone una responsabilità, ha detto l'Arcivescovo. Noi sentiamo la responsabilità di fare un bilancio di missione per rendere conto perché la diocesi, come le singole parrocchie, hanno modestissime risorse proprie, quindi le risorse con cui possiamo svolgere la nostra missione sono quelle che vengono dalla gente, sia da quelli che firmano per l'8x1000, che fornisce una risorsa importante, e sia dal numero della gente che nelle singole parrocchie, nelle singole iniziative, contribuisce a offrire risorse alla diocesi. Noi dobbiamo dimostrare che le risorse sono effettivamente destinate alla missione della Chiesa, che è quella di annunciare il Vangelo, di prendersi cura dei poveri, di favorire l'educazione dei giovani. Di queste risorse il 38% proviene dai fondi della Conferenza Episcopale Italiana, l'8x1000 ordinario, straordinario e i bandi, il 37% da contributi tipici provenienti da parrocchie, enti e privati, il 23% da servizi relativi alle attività commerciali delle società diocesane, il restante 2% proviene dall'utilizzo di riserve interne, il che significa che le risorse impiegate hanno superato di poco le fonti. Anche i dati disaggregati sono apparsi particolarmente rilevanti, si pensi solo ai più di 15 milioni di euro destinati all'attività caritative di Caritas Ambrosiana. La ricerca si avvalsa anche della consulenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Il dato che colpisce è innanzitutto quello relativo all'entità delle risorse destinate alla cura e alla promozione dei territori ambrosiani, perché parliamo di 52 milioni di euro nell'anno pastorale 21-22, quindi una dimensione di risorse destinate importante, anche il dato sulle risorse destinate alla carità, che sono oltre 15 milioni, credo di evidenza del ruolo significativo nel venire incontro ai bisogni delle comunità ambrosiane. E poi si evince un ente dalla forte efficienza, in grado di gestire il valore in maniera generativa, perché grazie a questa efficienza nel coordinamento le risorse ricevute sono in un certo senso moltiplicate attraverso le attività degli enti.